Musica Gloria, 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 Scimera e scelta Dal Vangelo e da Luca En lauta, Gesù si assut ed andaduce in vers Gerusalemme C'è anche l'està vecina a Betfage e a Betania, vecina al mondo che già veniva dì di Olives, l'ha manato i discepoli di San. Sì, te il villaggio e te d'ant, te il girite, troverete un puller lea, su un quel che non le mai monta su nessuno. Deslealo e portalo chiò. E se qualcuno vedo mana, perché pal desleede? Risponerebbe così, e il Signore nade besin. Gli inviè, gli esic, e gli ha trovato ciò che già gli ha detto. E in una che gli dislea il puller, i patrons gli ha detto, perché pal desleede il puller? Gli ha risponato, il Signore nade besin. Gli ha portato cosita da Gesù, e dove il metto si mantiene sul puller, gli ha fatto montare su Gesù. E in una che è l'elzionante, gli poteva si mantiene a basso una strada. L'era ormai vecina alla Erta dei Mont degli Olives, canche duci di sepoi, piens dell'egrezza, attaccalo d'ardie a Granous, e duci miracoli che Giai ha veduto. Dicevano, Benedetto quel che viene, il Re, tra il nome del Signore, peste il cielo, e gloria tra il più alto del cielo. C'è che farisei, ante la gente già dìt, Maester, beghe già ti di sepoi, ma El già risponet, già vedie che, se chi sta sarà, ci garà i sass. Parola del Signore Dio. Ben troveri a tutti, che oggi, con questa domenica che ho dell'Oliva, siamo nella settimana senta. Il Vangelo che ho giusto ascoltato, è quello che viene letto, dando la processione, che ne porta a Tegesia, dell'Oliva, appunto. E' un Vangelo che ne dico, che con i sani, girano, davanti alla settimana senta. E forse restano sorpresi. Sì, perché si parla dei discepoli contenci, si parla addirittura dell'allegrezza, si parla della gloria, ma veramente la settimana senta l'Ecchist. Sì, pensavo che anche il Cardinal Laiolo, che chi è di Ciampedel, conosce bene perché è venuto là su, perché è venuto in ferie di sta, l'ha scritto proprio un mese fa, il Prummes di Fire, un libero su Passione e Ressurrezione, una riflessione sul Vangelo di St. Jean, in cui è dis proprio Chish, che non si può parlare della passione, della sofferenza di Cristo, senza parlare della Ressurrezione, e non si può parlare della Ressurrezione, senza parlare della sua passione. La due robes, che si può sempre stare insieme. E allora, sono a vedere in questo Vangelo, che ne introduce proprio, della settimana senta. Dunque, come vi dice, come stanno affrontare la settimana senta, con una certa allegrezza. Come sentite il Vangelo, che dice appunto, benedetto che è il che viene, il rete, il nome del Signore, peste il cielo, e gloria del più alto del cielo. Piense di allegrezza, attaccarlo del Dio. Ecco, questi atteggiamenti, questa vita che ho, non sono a vedere la settimana senta. non c'è perché l'attacca, con l'allegrezza, e la finesse, il Dio di Pesca, con l'allegrezza più grande. Perché? Già il Cardinal Aioloto, che è il libro che vi ha detto in Ante, lo dice, la cross per Saint Jean, del Vangelo, l'esaltazione, la gloria. E non c'è il vento, se guardate, nel momento in cui, pisono alla passione del Signore Dio, il termine ultimo, le chiede di fare accorti, e di aspettare la risurrezione. Non è, come dire, la disperazione. Nessi cristiani, affrontandoci la sofferenza, il dolore, con questo atteggiamento, che non insegna, a cosa che conosciano a vivere, noi, se perdono sempre con la gaiza, se sa che i mestieri, magari costa fadìa, dove è in cruzzi, ma se sa un aspettare, allora do, venendo la risurrezione. Noi non possiamo mai parlare della passione, come ho detto, senza parlare della risurrezione, perché se non rischiamo di terra a metà, il Signore Dio, e in città di pesca, vedremo insieme, che vogliamo parlare, per parlare di pesca, di quello che è succeduta, la passione del Signore Dio. intanto, mi veste a chi schiava, per questa trasmission, che può essere affrontare la settimana senta, con quella serenità interiore, con quella pesca, con una certa allegrezza, per gustare, fino a un fondo, in quel momento, l'horau, che è la passione del Signore Dio, il vento senta, perché, da un'occasione, possiamo capire, chi è il gran mistero, della risurrezione. Buona settimana, ad oggi, gente. gloria, 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 Viene scherzis Deo Viene scherzis Deo